Musica Ma ci stanno salutando E buonasera Siamo al dance day La sala si è quasi svuotata E' mezzanotte e 35 E gli stancabili Ma tu chi sei? E tu chi sei? I mani per tanti E qui abbiamo questa bellissima maestra Anna Rita Paoletta Eccola E qui è che non è un altro male di uno Oggi è di essere qui Musica